Cos'ha la bicicleta? Andrea Non c'è niente E ora Il nostro amico ha offerto un'ombra e ci siamo poco a casa E siamo a posto Ok Va bene? Ha fatto un altro caso? Ti ho domandato qualcosa? Ha fatto mettere il culo Milano? No Milano No C'è anche il pisciato addosso Milano Milano No E non ho problemi E io voglio saldare Tutto quello che era giusto Ma questo che hai fatto la bicicletta? Non ti interessa Attualmente non ti interessa Luca? Ora che vai a dire che Dio Cano Ora che quando ti vedi che ti butti l'acqua La prima frenata e la seconda ti devi andare piano Perché Dio Cano va via dritta Eh va via dritta sì eh No No Dio Cano sento il meglio ti Perché ti vieni dalla Cina Io Ti ho detto Quando devi frenare piano Io ho fatto l'ubliata Ho fatto l'incidente Ma allora No Tu sembra l'incidente E non sei la macchina patente E io ce l'ho Mi? Mi? All'inizio del 77 Dio Cano va patente mi? Si però l'ubliata ho tirato via Ah fanculo Ah fanculo Questa è la parte Forza Ero